Adesso c'è tutto l'altro spirito nella squadra, è cambiato tutto. La gente camminà portandosi, sbattendo le valigie. Jonah, gli All Black sono venuti qui, c'è di bestione. Hanno aiutato tutti. Niente passaggi in avanti. Mani forti, hanno spostato le valigie in un lampo. Hanno aiutato un bambino a ritrovare sua mamma. Adesso ci aiutiamo tutti. Se non ti senti bene nei tuoi piedi, ti se leggi in faccia. Jonah, l'uomo. Non mi dispiacerebbe fargli un bel placaggio. Mi piacerebbe davvero. Grazie a tutti.